Alessandro Ligurgo, il caro Energia sta gravando sulle tasche di tutti, soprattutto su chi lavora, che ha a che fare con le utenze di casa propria e quelle della propria attività. Confesercenti sta raccogliendo anche quello che è il malessere delle proprie attività associate che indirettamente si riflettono anche sulla comunità perché a quanto pare dovremmo aspettarci anche delle vie cittadine un po' più buie. L'allarme è anche di tipo sociale, quindi non solo dal punto di vista economico, si comincia veramente a fare tanta difficoltà a sopravvivere, a mantenere i propri dipendenti, quindi tutta la compagine dell'azienda, ma si riflette anche dal punto di vista sociale per una mancanza quantomeno percepita di mancanza di sicurezza nelle città, che non è solo Pesaro, non è solo nelle grandi città, ma purtroppo se anche i comuni cominceranno a abbassare le luci, a magari accenderne una sì, una no, avere questo senso di intermittenza, con tutte le vetrine spente che fanno illuminazione pubblica perché sono una vera e propria componente della pubblica illuminazione di tutte le città, secondo me ci troveremo ad avere un problema, se non reale, quindi di delinquenza reale perché nei punti bui delle città la delinquenza, vuoi non vuoi, prospera, se non altro percepita. Le attività decidono di chiudere gli interrottori nella speranza di non dover chiudere molto di più? Fino a poco tempo fa le vetrine erano accese fino verso le 11 di sera, le 11 e mezza, è un dare visibilità al proprio negozio in ogni caso anche nelle ore di chiusura. In questo caso tenere le luci spente due, tre, quattro ore in più vuol dire tanto, vuol dire tanto peso nella propria tasca, vuol dire mantenere qualche soldino in più dentro l'azienda, perché comunque rischiamo che se continua così e se qualcuno non ci mette mano dall'Europa in giù rischiamo che parecchie attività chiuderanno. Si comincia a innescare un circolo vizioso purtroppo che comincia a spaventare. Fai fatica a spendere i negozi che oltre ad avere meno clientela, perché la gente fa più fatica a spendere, i salari sono rimasti quelli di tempo fa, rischiamo che molte aziende, quelle soprattutto meno strutturate, meno solide, cominciano a pensare di fare altre scelte.